signori buongiorno bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e con questo video iniziamo un discorso decisamente lungo e probabilmente definirà questa intera stagione ormai sono otto anni che io sto qui su internet e sono stato coinvolto in molte più discussioni sul gioco di ruolo di quelle che dovrebbe essere umanamente possibile fare e mi sono reso conto che per quanto noi si viva nell'epoca della comunicazione globale in realtà c'è un errore di fondo nel modo in cui la gente parla e si approccia al gioco di ruolo nel video di storia che ha concluso la settima stagione ve lo lascio qua su se dovete andarlo ancora a recuperare abbiamo parlato delle tre grandi classificazioni commerciali del gioco di ruolo e il gioco di ruolo osr il gioco di ruolo trad il gioco di ruolo new gen ma queste appunto sono delle classificazioni di tipo commerciale servono alla gente che deve andare a comprare un gioco di ruolo per avere un'idea del tipo di gioco di ruolo e sta per andare a comprare se può interessargli o meno e per dire al tizio del negozio vorrei un gioco di questo tipo e non di quest'altro tipo ovviamente però queste tre categorie non sono sufficienti per definire quello che la gente poi fa effettivamente al tavolo e in realtà non sono neanche pensate per quello molto spesso però quando la gente parla di quello che gli piace o quello che effettivamente fa al tavolo si riduce a usare queste categorie che tecnicamente è sbagliato però questo non vuol dire che non ci sia un modo per definire quali sono le cose che ci piacciono e in realtà esistono intere correnti culturali interne al gioco di ruolo che si basano appunto su approcci diversi al gioco di ruolo di conseguenza con il video di questa settimana andremo appunto a cominciare a parlare di questo cioè quali sono le culture all'interno del gioco di ruolo ok video introduttivo ovviamente dobbiamo partire con tutta una serie di premesse prima di tutto una cosa e tra l'altro mi è stata chiesta un paio di volte quando ho annunciato che lavoravo a questa serie ma c'è davvero bisogno di classificare le culture all'interno del gioco di ruolo si anche se può sembrare un discorso puramente accademico e fine a se stesso anche perché poi la gente al tavolo fa quello che gli pare che poi in realtà è il succo di questa serie ci sono due ottimi motivi per andare a inquadrare e catalogare i modi in cui la gente gioca di ruolo il primo è che anche solo il fatto di sapere che indipendentemente da quello che si fa al proprio tavolo esistono altre persone che fanno altre cose diverse e che nel corso degli anni si siano venuti a creare proprio dei veri e propri modelli stabili di modi per giocare di ruolo aiuta a non cadere nella trappola del l'unico vero modo corretto di giocare cioè pensare che quello che si fa noi con i nostri amici sia il gioco di ruolo giusto e chiunque altro stia giocando in maniera diversa per qualche motivo sia intrinsecamente in errore stia giocando di ruolo nella maniera sbagliata sia divertendo nella maniera sbagliata lo vedremo meglio andando avanti con la serie ma detta in maniera molto semplice due tavoli che stiano giocando allo stesso macro insieme di giochi due tavoli che stanno giocando tra anche due tavoli che stiano giocando entrambi a cyberpunk potrebbero farlo in due modi diversi e entrambi quei modi sarebbero legittimi e razionali sarebbero modi che funzionano al massimo ci potrebbero essere delle differenze stilistiche o delle differenze di gusto personali che però in quanto tali non sono soggetti a dibattito il secondo è quello probabilmente più importante è quello che può servire a noi stessi per sapere e poter dare un nome a quello che ci piace e anche per aiutarci a riflettere su quello che piace a noi darci un framework di riferimento una corrente artistica di riferimento che ci permetta di ragionare su che cosa vogliamo per il nostro gioco di ruolo e anche magari avere un modo per trovare altre persone che abbiano il nostro stesso interesse e quindi sapere dove andare a cercare e cosa andare a cercare per trovare quello che ci piace molto spesso un giocatore di ruolo infatti rimane poi nella prima comunità di gioco di ruolo in cui si trova in cui si è formato perché quelli sono i suoi amici quelli è il circolo della sua zona vari motivi ma ogni comunità comunque segue un suo stile quindi qualcosa che non è apprezzato dalla maggioranza all'interno di quello specifico gruppo ovviamente non verrà mai neanche discusso o se viene proposto verrà considerato sbagliato quindi un giocatore che abbia dei gusti diversi potrebbe da una parte non solo mai scoprire che esistono altre cose al di là di quelle che vengono fatte in quello specifico gruppo e magari poi convincersi che fare robe diverse come dicevamo a inizio sia appunto un modo sbagliato per divertirsi e quindi è scemo lui che lo vuol fare in realtà la gente normale non lo fa forse per aiutare a inquadrare meglio la situazione pensate ai generi musicali tutti grosso modo possiamo dire che ascoltiamo la musica ma ovviamente ognuno di noi avrà un particolare genere o qualche particolare genere definito e anche se l'industrial metal e la musica classica siano entrambe musica hanno delle notevoli differenze tra i loro nonostante siano entrambi considerati generi artistici musicali perfettamente legittimi in cui magari ci sono delle persone che preferiscono uno o l'altro e potrebbero essere persone che preferiscono entrambi esistono in realtà vari modelli che sono stati sviluppati per classificare le culture del gioco di ogolo quello su cui io mi sono basato per questa serie di video è il modello a sei rami sviluppato dal retired venturer nel suo blog nel 2021 che non solo è uno dei modelli più completi ma anche uno di quelli più diffusi e universalmente accettati vi lascio il link all'articolo originale in descrizione andate a darci un'occhiata perché non solo è l'originale ma contiene a sua volta tutta un'altra serie di link che vi permettono di approfondire da soli l'argomento se volete questo modello prevede di dividere i tipi di gioco di ruolo che vengono portati avanti al tavolo in sei macro categorie basate su quali sono gli effetti e quali sono le caratteristiche che vengono ricercate dal gruppo di gioco diciamo quale è il tipo di esperienza che il gruppo di gioco sta cercando di creare al suo tavolo la corrente classica propone un gioco basato sulla sfida è incentrato sulla progressione del personaggio sul processo decisionale tattico e sul fair play non è interessato alla costruzione di grandi narrazioni preferisce sistemi meccanici in cui ogni decisione finale affidata all'accordo tra il tavolo alla decisione del master questa è la corrente più vecchia e grosso modo perduta perché soprive pochissimo e quella che si sviluppò rigeneramente negli anni 70 quando il caos delle prime edizioni dnd portò poi a scorporarle alla nascita dell'advance dungeons and dragon che quella che noi chiamiamo adesso la seconda edizione in realtà fu una sorta di remake la corrente tradizionale vuole che il gioco di ruolo sia incentrato principalmente sulla storia raccontata al tavolo in particolare nell'emulazione dello stile di film romanzi e altri media investe la maggior parte dell'autorità nel gm in modo che possa imporre una direzione artistica per mantenere questo stile e considera il sistema come condizionale discrezionale alle decisioni del game master ma predilige sistemi pensati per regolamentare le azioni dei personaggi e autosufficienti probabilmente tutti quelli di voi che hanno più di 30 anni quando pensano al gioco di ruolo stanno pensando alla corrente tradizionale che è quella che era particolarmente diffusa e si è sviluppata dagli anni 90 fino al 2000 e avanti il nordic larp vede il gioco come un mezzo per raggiungere una profonda immedesimazione nel personaggio in particolare nell'esperienza emotiva fino al punto di influenzare il suo giocatore tanto quanto il personaggio stesso disdegna le astrazioni e le simulazioni basate su regole in gran parte si basa su forme di gioco libero improvvisazione disperde l'autorità del master tra i giocatori non c'è una data precisa della sua nascita ma intorno al 2000 dal 2000 al 2005 diciamo apparvero vari manifesti degli intenti progressivi da cui si può dare origine a questa specifica categoria e a differenza di quello che può sembrare dal nome no non necessariamente si basa sul live action role play è molto diffuso nell'arp ma questa corrente si adatta a tutto il gioco di ruolo gli story game che in italiano chiamiamo più spesso giochi narrativi o anche solo anche se impropriamente giochi forgiti sono quelli in cui gioco è guidato dalle decisioni del giocatore piuttosto che dalla sceneggiatura del master questa corrente ama che le regole siano forti e coerenti con la promessa dello scenario valorizza fortemente l'intento del designer più di quello dei giocatori o del master dà molta autorità narrativa ai giocatori e spesso scorpora tra loro tutte le incombenze del master questo stile di gioco sempre poco prima del nuovo millennio aveva cominciato a prendere forma su varie main list news group poi tutto è culminato nel 2000 sul famoso sito di sviluppo the forge che ha diciamo per la prima volta cristallizzato la scuola di pensiero lo stile osr o school revival è basato sulle sfide e incentrato sul processo decisionale dei giocatori non è eccessivamente interessato all'equità mette enfasi sul mondo come entità indipendente e investe molta autorità sul dungeon master che conduce il gioco secondo la massima del decisioni non regole anche in questo caso ci sono sempre stati movimenti di retro gaming ma la nascita dell'osr è in risposta allo sviluppo di the forge quindi anche lui è una corrente che si è canonizzata nel 2000 la corrente neotrad a volte chiamata original character è tecnicamente quella nuova in via di sviluppo e per adesso è definita in maniera abbastanza vaga l'obiettivo principale del gioco è la gratificazione delle aspirazioni dei giocatori pone molta poca enfasi sulla discrezionalità del master che funziona più come tramite per i giocatori e la storia e per questo fa un uso molto maggiore di moduli di gioco avventure prefabbricate ha anche un'enfasi maggiore sul gioco come spettacolo e in realtà è la forma attuale di gioco di ruolo poi in mente tutti quelli di voi che hanno meno di 30 anni pensano a questo quando pensano al gioco di ruolo queste correnti non sono ovviamente mutualmente esclusive anzi è possibile che voi e il tavolo dove state giocando masterando stiate portando avanti più di una corrente contemporaneamente magari con elementi presi da varie di loro la cosa ovviamente è voluta ogni corrente rappresenta un modello ideale di quello che si ricerca in una partita ma poi come vi ben detto all'inizio ogni tavolo è un mondo a parte in cui le cose vengono mischiate perché giocando con più persone assieme ogni membro del tavolo porterà quello che a lui piace di più se vogliamo riprendere il paragone musicale fatto all'inizio è difficile trovare una persona che ascolta solo ed esclusivamente un determinato genere musicale molto probabilmente se gli piace un particolare genere apprezzerà anche canzoni di generi relativamente simili un'altra cosa che potete avere notato è che molte di queste correnti si sono sviluppate nel 2000 non è un caso anzi questo è dovuto al fatto che il 2000 è stato l'inizio dell'era della comunicazione globale mettiamola così tra la fine degli anni 90 e il 2000 c'è stata l'esplosione della diffusione di internet che noi adesso diamo per scontato ma all'epoca si stava ancora diffondendo la rete dal 2000 in avanti è stato il primo periodo in cui effettivamente tutte le persone virtualmente da ogni parte del mondo dove potevano comunicare tutte assieme questo ha fatto in modo che quelli che prima erano gruppi di gioco che magari si trovavano in associazioni o quando c'erano determinati eventi potessero essere effettivamente tutti collegati su base quotidiana ognuno poteva la sera prima di andare a dormire connettersi a internet andare sul forum e chiacchierare con qualcuno sul gioco di ruolo e su che cosa apprezzava o non apprezzava ovviamente più persone che discutono più idee vengono discusse una volta resa insignificante la distanza geografica questo ha portato a quello che succede poi in altre forme di espressione artistica cioè che raggiunta una massa critica hanno cominciato a crearsi correnti interne in cui le persone cominciavano a capire che non tutti la pensavano esattamente come loro ma c'erano molti altri che effettivamente erano d'accordo con loro e quindi a radunarsi in specifici gruppi ideologici tra l'altro oggi giorno internet è ancora più diffuso e per certi versi stanno cadendo anche barriere ideologiche che negli anni 2000 c'erano ancora barriere culturali l'inglese è molto più diffuso quindi adesso la discussione è ancora aumentata noi per adesso abbiamo parlato di un temporaneo come neotrad perché è ancora in formazione c'è ancora poco a studiare ma è probabile che quello che per adesso è semplicemente il neotrad poi nei prossimi anni magari tra dieci anni abbia dato origine a un'intera serie di altre correnti interne a se stesso diciamo che per questo video è tutto ovviamente nei prossimi video andremo a vedere molto più nel dettaglio tutto quello che riguarda queste correnti ho anche in programma una serie di interviste ho chiamato altri master esponenti delle varie culture appunto perché spieghino direttamente qual è il loro modo di giocare qual è il loro modo di vedere le cose in modo da darvi un'immagine più pluralista possibile su quelle che è l'attuale stato del gioco di ruolo mettiamola così fino ad allora come sempre la parola sta a voi scrivetemi qui sotto nei commenti qual è la correnti a cui voi appartenete o le correnti a cui voi appartenete se vi siete mai capitati di trovare in una discussione con qualcuno che sosteneva che la sua fosse migliore di tutte le altre cioè lo so che vi è capitato nel caso faccia ridere vogliate raccontare l'evento specifico come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che è venuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link anche del server di Discord del gruppo i Telegram dove metto io le notifiche manualmente e dove tra l'altro si riunisce la community che mi ha dato anche una mano a fare questi video e con cui ne stiamo discutendo in realtà dall'inizio di questa stagione sul fatto che prima o poi sarei voluti arrivare per il resto io sono il Master Kai e noi ci vediamo nel prossimo video